Il 2023 è stato certamente un anno straordinario per la nostra associazione, appunto l'Arte, che è stato certamente caratterizzato da sfide ed obiettivi che abbiamo affrontato con successo e abbiamo anche celebrato con risultati molto significativi e abbiamo rafforzato il nostro impegno per un futuro sostenibile. Ci siamo dedicati alla promozione di valori come la solidarietà, benessere, crescita, subvecchi e nuovi bisogni, legandoci alle comunità in cui operiamo, ossia il territorio. È stato un anno di crescita, impegno e realizzazione professionale. Il 2023 è stato un anno di crescita, impegno e realizzazione professionale. Nel corso del 2023 abbiamo condiviso momenti veramente molto, molto emozionanti. Il 2023 è stato una grande ripresa di tutte le attività dopo il periodo del Covid. Abbiamo incentivato fortemente l'attività anche erogativa a favore del benessere della persona e della famiglia. Abbiamo organizzato eventi, viaggi in luoghi suggestivi in tutto il mondo. Progetti come Qua la Zampa hanno evidenziato il nostro impegno per il benessere degli animali e dell'ambiente. I campeggi hanno offerto vacanze serene e accessibili. Le cose tipiche dell'Arca che ci hanno caratterizzato e hanno avuto un grande successo. Guardando al 2024 ci attendono esperienze straordinarie che rafforzeranno il legame della nostra associazione. Programmeremo i meeting sportivi sparsi un po' per tutto il territorio nazionale per seguire le passioni dei nostri soci e poi viaggi, 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 tour in tutti i luoghi straordinari del mondo. Certamente proseguiremo supportando le nostre famiglie nella crescita e formazione dei figli con una politica di contribuzione che in questi anni ha fatto la differenza. I valori fondamentali di Arca Enel, solidarietà e welfare, rimangono e rimarranno nel nostro impegno per il benessere collettivo. Proprio in questi giorni prenatalizi ci siamo domandati cosa Arca potesse fare per coloro che avevano bisogno di un sostegno. Una piccola donazione alla ludoteca dell'ospedale Bambino Gesù è un piccolo gesto, ma un gesto intriso di grande significato. Abbiamo fortemente voluto un'iniziativa che rispecchia i valori fondamentali che ci guidano nella nostra associazione Arca, come la solidarietà, la cura e l'attenzione verso i prossimi, soprattutto verso i più piccoli e i più deboli. Concludiamo il 2023 con gioia e gratitudine, celebrando il vostro impegno nella riuscita delle nostre iniziative che Arca ha proposto. Auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie un felice Natale ed un sereno anno nuovo. Continueremo a costruire le nostre iniziative attraverso i valori fondanti della nostra associazione, appunto la solidarietà e la voglia di stare insieme. Tanti auguri a tutti! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS